si poteva innamorare si poteva innamorare nel 2014 fai 42 anni e un mese nel 2013 nel 2014 ogni anno siamo nel 2014 a me mi è stato detto effettivamente con la legge di oggi di manata devo fare 42 anni io quello io quello sto girando la troppa sicurezza ti porta a sbagliare a non farti rendere conto che stai sbagliando ogni lavoratore ogni anno e mezzo ogni due anni dovrebbe cambiare settore della mobilità no allora tu oggi dove lavori? allo stadio si si dopo due anni dopo due anni dopo due anni ti metto ma esiste davvero di modo che tu sei molto più professionale sui vari campi due quando ritorni a Palo non hai più quella aspefazione ti sa ciotto cosa vai la trovi delle innovazioni ti impegni di nuovo mentalmente sei di nuovo mentalmente attento affinché il tuo lavoro non commetti errori sull'opera è la stessa cosa come fanno i bank fanno tutti i clienti ma esiste ma questa legge esiste da tanti anni è la mobilità del dipendente ha pure di lavorare sullo stesso posto e atropizionalmente noi non ci fai niente pure si sbaglia se te ne vai e non rifletti la cosa che hai fatto male succede l'incidente è fondamentale è una cosa che non hai fatto se non hai stato pensato i video si 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 si